Ciao, sono Roberto Lacorte. Oggi mi trovo esattamente nel quartiere Navigatori, con esattezza in Via D'Amosto al Civico 5. Voglio mostrarti un bellissimo appartamento, completamente ristrutturato, posto al piano primo della palazzina che vede alle mie spalle. Una palazzina in stile Cortina, cioè tutta a mattoncini, come puoi notare. È un appartamento posto al primo piano, sono esattamente 100 metri quadri, dispone di 4 balconi e l'appartamento è stato completamente ristrutturato, è disposto da sala, una bella sala molto grande, abbiamo la cucina separata, abbiamo due camere da letto, un bel bagno molto grande, con due accessi sia dalla stanza che dalla zona di disimpegno e poi dispone di una bellissima cantina. Finitura di qualità, abitato dalla proprietà, per cui non si è risparmiata sulla ristrutturazione. Pertanto seguimi che ti mostro esattamente le finiture interne e ti mostro l'appartamento internamente. Abbiamo visto l'interno, quindi vi siete resi conto della disposizione, vi siete resi conto delle finiture e per cui per poter approfondire, venire in visita e eventualmente trattare quest'immobile, insomma per l'acquisto potete tranquillamente chiamare lo 045 810 48 99 oppure mandarci una mail ad info-la-corte-immobiliare-srl.it Sarò felice e lieto di accompagnarti in visita. Grazie a tutti.